Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, circa 50 milioni di italiani saranno impegnati nelle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Per il voto sarà necessario essere maggiorenni e in virtù di una legge sul taglio dei parlamentari, da 945 a 600. Nelle Marche le elezioni si sono ridotte a 10 deputati, a cospetto dei 16 della precedente tornata elettorale, e a 5 senatori contro gli 8 elegibili nelle ultime elezioni del 2018. Prima di recarsi nei seggi elettorali però non è importante capire solamente chi votare, ma anche in che modo farlo. Per prima cosa ogni elettore dovrà presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale. Tessera elettorale che si potrà ritirare presso gli uffici comunali che rimarranno aperti anche domenica 25 settembre. Dopodiché ad ogni elettore gli verranno consegnate due schede, una gialla per il Senato e una rosa per la Camera, con una sola X da barrare per scheda. Il voto per i partiti che non hanno formato alcuna coalizione si esprime tracciando un simbolo sul segno del partito, con il voto che andrà al candidato del collegio uninominale e alla lista plurinominale del partito stesso. Il voto invece ai partiti che hanno formato una coalizione si esprime tracciando una X o sul nome del candidato al collegio uninominale, che a quel punto viene anche distribuito proporzionalmente tra i diversi partiti alleati, mentre se si traccia un segno sul singolo partito della coalizione e non al candidato uninominale, si voterebbe per la coalizione stessa, ma sostenendo solamente il collegio plurinominale appartenente al partito selezionato. Non è possibile il voto disgiunto, ovvero tracciare il segno su una lista e sul nome di un candidato di un'altra lista. Sulle schede elettorali non è assolutamente possibile scrivere nulla e per la prima volta per votare i senatori sarà sufficiente avere 18 anni e non più 25.